Oggi troviamo alla Galleria d'Arte di Domenico Pascaldi, dal libro l'avevo previsto. Già altrimenti lo vogliamo ringraziare e faremo delle riprese per quanto riguarda la galleria. Dei quadri molto belli e molto particolari. A mio avviso questo è bellissimo, è molto particolare. Poi con questi colori che si alternano molto molto belli. Ringraziamo dalla Galleria d'Arte di Domenico Pascaldi. Grazie a tutti.